Sono 1110 i nuovi positivi al coronavirus in Campania. Il dato emerge dal bollettino dell'unità di crisi della regione che ha comunicato i risultati dei 24.616 tamponi esaminati sul territorio campano. 2.054 i guariti del giorno. Sul fronte vaccini sono 1.656.000 i cittadini che hanno già ricevuto la prima dose. Di questi 622.370 hanno ricevuto anche la seconda. Fra i nuovi positivi in provincia di Salerno anche il sindaco di Altavilla, Silentina, Antonio Marra. No c'era inferiore invece il comune che ha registrato più casi nella giornata di ieri con 14 nuovi positivi. Grazie a tutti.